musica ok ragazzi visto che torno a casa nel weekend mi porto a casa a Lioni i busti del Joker e della sposa cadavere di Emily che così faccio un po' di spazio qui e poi arriveranno presso altri film DVD Blu-ray quindi quelli che ho visto me li porto a casa e quelli che devo vedere ancora vi resto qui come sto facendo adesso che mi porto alcuni film e lo sporsa Manac di Ritorno al Futuro e alcuni limited ecco qua che ho messo entrambi i busti e alcuni film e questi qua ragazzi li porterò a casa poi li sistemerò nella mia camera dove ho gli altri film in modo tale da aggiornarla con questi nuovi titoli poi per il momento questi qua ragazzi rimarranno qua e quando li porterò li porterò a casa nella mia camera camera a casa e a casa a casa a casa